Sono il comandante Miller. Forse ho una cosa che le interessa. Martin Brown, CIA. Oggi sono finito faccia a faccia con il Jack di Fiori. Via, via, via! Ho fatto irruzione. Lui era lì. Sono arrivate le forze speciali e se lo sono portato via. La cosa sta a cuore a gente più in alto di voi! Non siamo tutti dalla stessa parte? È un po' più complicata la cosa. Clark Poundstone, Intelligence del Pentagono. Poundstone dà la caccia a qualcosa. E noi dobbiamo scoprire a cosa. Come arriverà a lui. Non lo farò io. Lo farà lei. Locatori. Qui c'è un milione di dollari. Che cosa sa? La verità. Ne stia fuori, Miller. È sorvegliato. Accidenti! L'hanno preso. Controlla il settore 3. Io so tutto. Uccidi quel pezzo di merda. Ricevuto! A che gioco stai giocando? Non si torna indietro. Tu non hai idea di chi hai contro. RPG! Luigi! Réalise! Lei! Réalise! Réalise! Réalise!